Carissimi amici, buonasera e bentornati sul canale per i patetici digitali. Questa sera delineeremo insieme la figura di Charles Baudelaire e leggeremo alcuni dei suoi versi tratti dall'opera Les Fleurs du Mal, i fiori del male. Baudelaire nasce a Parigi. Alla sua nascita sua madre aveva 28 anni, mentre il padre ne aveva 62. Era nato prima della rivoluzione e aveva iniziato la carriera ecclesiastica, cui rinuncia proprio al momento in cui scoppia la rivoluzione. Il padre amava la pittura e Baudelaire deve proprio al padre quella sua primitiva passione che era il culto per le immagini. Il padre muore nel 1827. La madre si risposa con un ufficiale che diventerà poi generale nel 1839, l'anno in cui Baudelaire si laurea. Era uno studente eccellente soprattutto nello studio del latino. Quando manifesta alla sua famiglia il desiderio di diventare scrittore, il padrigno gli consiglia di intraprendere un viaggio. Baudelaire parte per Calcutta, ma non raggiungerà mai questa città. Si fermerà all'isola della Réunion e si imbarcherà poi per rientrare in Francia. Nel 1842 riceve l'eredità del padre. Inizia a frequentare gli ambienti letterari, conosce Balzac, Jean Duval, ma inizia anche una vita dispendiosa tanto che la famiglia ottiene legalmente di ritirargli l'eredità. Gli concederà solo di incassare un assegno mensile con quella somma di denaro sufficiente per vivere. Ma Baudelaire considera queste decisioni come un attacco contro la sua libertà e ne soffrirà per tutta la sua vita. Nel 1857 pubblica Les Fleurs du Mal. Inizierà a pubblicare anche altre opere come Les petits poèmes en prose o altri articoli sulla pittura, sulla musica o su altri argomenti di vita contemporanea e inizierà la traduzione francese delle opere di Edgar Poe. Per tutta la sua vita Baudelaire è diviso tra due sentimenti. Quello della malinconia, dell'angoscia, il sentimento del vuoto, del peccato e l'ideale del desiderio di virtù, di purezza, di luce, di elevazione è Baudelaire stesso a dire che all'interno di ogni uomo in ogni momento dilania una lotta tra due sentimenti, due tensioni. Da una parte quella verso Dio e dall'altra quella che ci spinge verso Satana. Per esprimere questo tormento interiore Baudelaire sceglie forme poetiche brevi ma intense. In particolare ricorre ai colori, ai suoni, ai profumi e dietro ognuno di questi c'è un significato profondo. Ogni suono, ogni colore, un profumo quindi ha un valore simbolico. Solo il simbolo permette di comprendere il significato del mondo e la lotta dell'anima per elevarsi al di sopra della materia, del corpo e della natura. Pochi lettori, almeno in prima battuta, avevano compreso la profondità dell'opera Les Fleurs du Mal. Gli ultimi anni di vita di Baudelaire sono davvero un momento atroce. Baudelaire è malato, stanco, paralizzato, incapace di parlare e perde poco a poco la sua lucidità. Muore il 31 agosto del 1867. E ora leggiamo insieme questo sonetto dal titolo appunto Le Chat. Viens, mon beau chat, sui mon cœur amoreuxo, retiens le griffo di la patta e lasse-moi plonger in te bello, metti da metà e l'agate. Lorsche mes doigts caressent a loisir ta tête e ton dos elastiche e che maman s'envire du plaisir de palper ton corps électrique, «Je vois ma femme en esprit, son regard, come le tien, aimable bête, profond e froid, coupé fond come un dard. E, des pieds jusqu'à la tête, un air subtil, un dangereux parfum, nage autour de son corps brun». Carissimi amici, per questa sera vi ringrazio dell'ascolto. Se il video vi è piaciuto lasciate un grande like, iscrivetevi gratuitamente al canale per essere sempre aggiornati sui contenuti che verranno pubblicati. Grazie e buona serata a tutti.